Gio Io sono il cantante che oggi hanno venuto a ascoltare lo miglior del repertorio a voi vi voglio brindare e canto alla vita di risi e pezzi di momenti mali e di cose buoni venero a divertirse e pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza vamos cantante comienza mi mejores fregones hay quienes cantan con falda yo canto con pantalones hoy te dedico mi mejores fregones mi saludo a Celia Rivera Feliciano esos son grandes cantores oye pero si es mas temprano ese chamaco mata dos o tres chamaquitos de la escuela como la gente con el chamaco de la escuela pasan slow non è un tipo di scorch e si no e si no al respiro alle tre alle tre alle tre alle tre alle tre tutte Grazie a tutti.